Eccoci qua con papà in una tacchetta di cicalotti, falli vedere papà, eccoli qua, vieni qua avanti e prendi quelli lì qua, ecco qua, e guardate ce n'è altri due là, sotto la pietra a sinistra, posiamo l'interto nel cestino, adesso andiamo a raccogliere questi qua come li raccoglie papà, la tra qua, guardate, non mangials, ecco qua sono due ecco qua sotto le foglie o che belli trugnoccoli che sono poi andiamo lì e poi ce ne sono due belli la su e la tacchetta per adesso è andata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti